Amici miei, canamici miei, cittadini di Portici, con il vostro consigliere comunale Francesco Portoghese, voglio ringraziarvi e darvi i miei migliori auguri di Buonato 2010 da parte dell'amministrazione d'Italia dei Palloni e il mio invito è quello ovviamente di continuare a lavorare per voi cittadini e per la nostra Portici, una bella Portici, dove potrà migliorare ancora di più con l'amministrazione Vincenzo I. Tantissimi auguri, tanti tanti auguri e Dio vi benedica.